Parole ancora soltanto parole, ovvero nulla di nuovo sotto il sole. È un giudizio che non lascia spazio a dubbi quello sull'esito del vertice sulla statale 337 e che giunge nel pieno di un caldo agosto vigezzino. Dall'Unione Montana a Vale Vigezzo arrivano infatti segnali tutt'altro che positivi, a margine della riunione di questa mattina, convocata dal prefetto Igini Olita a Santa Maria Maggiore presso la sede dell'ente montano. Sicuramente è un incontro che speravamo molto positivo per il nostro problematico della strada 37 e che purtroppo è scaturito ancora una volta e nulla di fatto. Sicuramente non siamo al punto di partenza ma siamo ancora alle fasi preliminari. Le aspettative erano altre e gli amministratori vigezzini nutrivano infatti la speranza di riuscire finalmente ad ottenere garanzie certe sull'avvio dei lavori di messa in sicurezza definitiva della statale nel tratto tra Re e il confine italo-svizzero di Ponte Ribellasca. Invece non c'è stato nessun passo in avanti rispetto a quanto già si era saputo durante l'incontro che avevamo avuto con Anas, io e il sindaco di Re Massimo Patriti, lo scorso mese di giugno a Torino, spiega Giovanola. Nei fatti l'ente strade per voce dell'ingegnere Gemelli ha assicurato l'appalto dei lavori di sistemazione dei versanti, in particolare delle reti paramassi, entro fine anno per un totale di 10 milioni di euro. Critici frontalieri, non vorremmo si trattasse di un pagliativo, una serie di interventi che magari poi si trascinano per diversi mesi e nel frattempo si temporeggia sulle opere importanti di messa in sicurezza di questo tratto di strada, dichiara Antonio Locatelli, e mi riferisco alle gallerie e alle altre opere previste. Il deputato leghista Alberto Gosmeroli si è preso l'impegno di contattare direttamente i vertici romani di Anas per un incontro con gli amministratori vigezzini. Siamo ad uno stalo totale e assistiamo ad un nuovo rinvio. Evidentemente il governo ha altre priorità che non sono quelle della statale 337, dichiara il parlamentario sul rando del PD Enrico Borghi, che dal canto suo ha proposto di commissariare l'iter procedurale dei lavori. Contraria a Mirella Cristina, secondo la parlamentare di Forza Italia si allungherebbero ulteriormente i tempi delle opere. Per la messa in sicurezza dell'arteria, Anas ha parlato di un progetto definitivo per fine anno. Si tratta però ancora una volta di parole, pretendiamo atti concreti, conclude amareggiato Giovanola.